dai ragazzi cerchiamo di mettere la sabbia sarà la base per la nostra strada fatto la base per la nostra strada la base per la nostra strada va bene e ora possiamo costruire una bella strada mi raccomando facciamo un buon lavoro bene la base per la nostra strada ed ora montiamo i segnali stradali tutto è pronto adesso è ora di tornare a casa evviva andiamo è davvero un ottimo lavoro perfetto ehi aspettami